Questa sera a tutto sporttaranto.com e alla Villa Nuovo Territorio, qui in Via Vittorio Emanuele, senza numero civico a Pulsano, molto più di un ristorante e pizzeria. Andiamo a conoscere insieme il locale degli sportivi tarantini. Villa Nuovo Territorio si trova a Pulsano, in Via Vittorio Emanuele, a due passi dal mare. Il locale è un meraviglioso chalet in legno, circondato da prati e fiori, alberi di pino e palme, il tutto curato nei minimi dettagli per rendere l'ambiente adatto ad ogni serata. Negli ultimi anni la pizzeria è cresciuta tantissimo, grazie all'impegno, la passione e l'abnegazione dei soci e di tutto il personale, in un'ottica lungimirante, mirata a soddisfare ogni tipo di clientela. Alla Villa Nuovo Territorio di Pulsano anche uno staff di primissimo livello, qui abbiamo Alessandra, bentrovata Alessandra, di che cosa ti occupi? Io mi occupo della gestione dei clienti e della sala. Parliamo della crescita esponenziale della Villa Nuovo Territorio negli ultimi tre anni, qual è il segreto? I fattori che hanno determinato la crescita della nostra attività sono appunto la qualità dei prodotti e il servizio celere. La qualità dei prodotti, in quanto utilizziamo prodotti solamente italiani, lunga lievitazione, farine non raffinate, macinate a pietra. Abbiamo visto questo locale sempre pieno, c'è un ulteriore segreto che dobbiamo esporre ai nostri telespettatori, la Fidelity Card. Siete stati lungimiranti in tal senso, una possibilità di fedelizzazione per tutti i clienti. Esatto, la Fidelity Card è appunto una carta fedeltà che si può attivare gratuitamente presso la nostra sede, che permette ai possessori di questa card di beneficiare di numerosi vantaggi. Il 30% sulle bevande consumate in sala, il 20% di sconto sul costo totale della cena sulle feste di compleanno e inoltre si può beneficiare di numerosi menu promozionali al costo esclusivo di 10 euro a persona. Si può appunto beneficiare di questi menu tutti i giorni della settimana, compresi anche il sabato e la domenica. Inoltre, se si volesse festeggiare qui da noi il compleanno dei propri bambini, c'è la possibilità di beneficiare di un pacchetto promozionale con animazione. E so che c'è una bravissima animatrice, Valeria, che andiamo a conoscere. Cominciamo con Valeria, l'animatrice della Villa Nuovo Territore, esperta in babysitting e feste di compleanno che qui di certo non mancano. Certo, qui è possibile festeggiare il compleanno del proprio figlio, usufrendo appunto della Fidelity Card e diciamo c'è un pacchetto promozionale di 190 euro che comprende buffet e bibite per 25 bambini, coperto, allestimento del tavolo torta del tema che si preferisce, sacchettini chiudi festa e trucca bimbi e ovviamente animazione con giochi e baby dance. Inoltre, Villa Nuovo Territore offre la possibilità di richiedere servizio di babysitting durante qualsiasi tipo di evento qui in sala. Infatti a breve verrà allestita qui all'interno della sala una zona di baby parking dove i genitori potranno lasciare i propri figli alla custodia di noi animatrici. Così il genitore può godere la serata al meglio e allo stesso tempo controllare le attività dei propri bambini. Ovviamente le attività di babysitting e di animazione si estendono anche a domicilio ed è possibile arricchire i pacchetti con delle opzioni aggiuntive come ad esempio lo spettacolo delle bolle, il teatrino, palloncini, mascotte, giassinenze e tanto altro ancora. La Villa Nuovo Territore non è solo ristorazione svago. Anche quest'anno infatti ha scelto di sostenere le società locali che dedicano le loro risorse alla promozione e sviluppo dello sport come la Crios Calcio, la Pugilistica Merico, la Scuola Calcio Novellino, la Polisportiva Ionio Ruggero, la Mandrillo BK Pulsano e l'amatore Vole Pulsano. Perché la cultura di un territorio parte dai ragazzi e dalla loro educazione, disciplina e voglia di fare gruppo. Villa Nuovo Territore a Pulsano in Via Vittoria Emanuele senza numero civico. Vi aspettiamo!